Era il 23 novembre 1993, venne ravito Giuseppe Di Matteo, figlio del collaborante Santino, conosciuto nell'ambiente mafioso come Mezzanasca. Il 28 luglio 1998 Chiodo raccontò in aula durante il processo Bagarella l'esecuzione dell'omicidio. Un racconto dell'orrore, deposizione che portò al 15 luglio 2002 la Corte di Cassazione a confermare la sentenza di primo grado che condannò esecutori e mandanti. C'era una volta un bambino chiamava i cavalli, era Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia 25 anni fa. Non aveva ancora 13 anni, quando lo rapirono per punire il padre Santino che si era pentito. Giuseppe Di Matteo veniva ucciso da Chiodo, Enzo Brusca e Monticciolo. Il piccolo Giuseppe, al momento della morte, aveva 15 anni. Erano 779 giorni che lo tenevano rinchiuso come una bestia per vendetta verso il padre Santino, pentito di mafia. Giuseppe amava tantissimo i cavalli, erano la sua gioia, montava regolarmente e faceva piccoli concorsi. Il piccolo Giuseppe era nato a Palermo il 19 gennaio del 1981. Fu rapito da un gruppo di mafiosi che agivano su ordine di Giovanni Brusca, allora latitante e boss di San Giuseppe Iato. Secondo le deposizioni di Spatuzza, che prese parte a rapimento, i sequestratori si travestirono da poliziotti della DIA ingannandolo facilmente il ragazzo che credeva di poter rivedere il padre in quel periodo che era sotto protezione lontano dalla Sicilia. La famiglia cercò notizie del figlio in tutti gli ospedali palernitani, ma quando il primo dicembre del 1993 un messaggio su un biglietto giunse alla famiglia con scritto tappaci la bocca e due foto del ragazzo che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre del 1993. Fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio San. Santino di Matteo non si piegò al ricatto e decise di proseguire la collaborazione con la giustizia. Giuseppe fu trasportato da un posto all'altro, fu spostato in varie prigioni dal Travanese e dell'Agrigentino e nell'ultimo nascondiglio rimase per 180 interminabili giorni prima di essere ucciso. Fu solo quando Brusca venne condannata all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo che decise di vendicarsi sul ragazzo ordinando così l'uccisione del ragazzo, ormai fortemente dimagrito e indebolito per la prolungata e dura prigionia nel copo Lager di San Giuseppe Iato. Chiodo, all'udienza del 28 luglio del 98, ha raccontato le fasi dell'uccisione del bambino, soppresso la sera dell'11 gennaio 1996. Già nelle sere precedenti era stato avvertito dalla Rosa di regarsi in campagna perché doveva arrivare Anzo Brusca, anche se la Rosa non gli aveva spiegato la ragione. La terza sera, infine, la Rosa lo aveva ancora una volta avvertito che l'incontro ci sarebbe stato. Gli aveva anzi detto di preparare della carne per la cena. Chiodo ha ribadito che aveva atteso Anzo Brusca almeno un paio di giorni prima. Dopo che il piccolo di Matteo era rimasto definitivamente lì a Giambascio, Anzo Brusca non aveva più frequentato quella casa, era venuto soltanto il giorno in cui era stato strangolato il bambino, ma doveva arrivare già due giorni prima. Racconta che Anzo Brusca era arrivato verso le ore 21 a bordo di un'auto guidata da un'altra persona che Chiodo non aveva riconosciuto. Brusca e Chiodo prendono la macchina ed insieme raggiungono la casa di Giambascio. Appena davanti al cancello, Brusca gli ha chiesto del bambino, che non aveva più rivisto sin da quando era stato portato a Giambascio. Era arrivato ed aveva esplicitamente comunicato che si doveva uccidere il bambino, senza specificare che ne avesse impartito l'ordine. Aveva chiesto a Chiodo quale aveva già intuito la terribile sorte che stava per toccare al bambino, se se la sentisse di farlo. Anzo Brusca aveva fatto presente che oltretutto occorreva prelevare dell'acido per sciogliere il colpo e il diesel per attivare il generatore di corrente elettrico ed altro. Anzo Brusca, visto la mancanza dei materiali, ha proposto così che la magraba operazione fosse rinviata all'indomani e che Monticciolo si era un po' consultato per distribuire a ciascuno il proprio compito, essendovi parecchia indecisione su chi dovesse materialmente uccidere il bambino. Monticciolo proponeva infatti che fosse Chiodo o Brusca ad agire. Avevano organizzato le operazioni preliminari. Monticciolo si era allontanato adducendo che si regava a prendere dell'acido e Chiodo si era regato in paese per prendere nella sua officina un fustellamier. Monticciolo aveva riferito a Chiodo che doveva scrivere al bambino una lettera nella quale comunicava che era stato abbandonato da tutti. Risaliti nel piano superiore, da dove era tenuto il bambino, cenarono e dopo cena, che si era svolta in un clima del tutto tranquillo, Chiodo aveva tagliato un pezzo di corda da una fune e Enzo Brusca l'aveva annotata per formare un cappio. Riscendono nel bunker. Chiodo si era fatto consegnare la lettera e infine si apprestano a compiere la magaba operazione dello strangolamento. Chiodo, nonostante che Enzo Brusca non voleva che intervenisse, si fece avanti per la regola che più volte egli stesso gli aveva raccontato, ma tirarsi indietro su qualsiasi eventuale occasione. Chiodo racconterà nei minimi dettagli l'operazione magabra che hanno smosto, raccontando che Shoz uvò il corpo del povero piccolo nell'acido e bruciarono il materasso e tutto il resto che era nel bunker per ripulirlo. In questa operazione di pulizia del covo, Chiodo racconta anche che rimase sbalordito di una cosa, che nell'acido l'unica cosa che rimase intatta fu la corda usata per uccidere il bambino che aveva ancora al collo e Brusca gli disse che ci poteva fare il suo trofeo con quella corda. In quella casetta di Giambascio furono poi effettuati lavori di muratura per coprire il bunker che era sotto, rifacendo anche l'intonaco e il piastrellamento. Giuseppe era un bambino innocente, chiamava i cavalli, torturato, strangolato e infine sciolto nell'acido. Eccolo il tragico destino che toccò al piccolo Giuseppe di Matteo, il figlio del pentito santino di Matteo, che faceva parte di questa barbara organizzazione chiamata mafia, che si fa grande per i suoi codici d'onore, ma che invece infrange quei codici con tanta facilità anche davanti ad un bambino, soprattutto da persone che hanno anche dei figli. Giuseppe in fondo era un bambino che amava la vita e amava i cavalli. Questa storia finisce qui, se ti è piaciuta lascia un bel like al video ed iscriviti al canale. È gratis e mi aiuti a crescere. A presto per i nuovi contenuti. a presto per i nuovi contenuti.